Buongiorno Beer Food Attraction 2024 continua, ci troviamo allo stand di Birra Peroni l'azienda con quasi 180 anni di storia e tutta italiana, oggi molto ben rappresentata dalla direttrice marketing Viviana Manera Viviana buongiorno e benvenuta Buongiorno a voi, grazie Viviana intanto oggi presentate una grandissima novità, Birra Raffo Lavorazione Grezza Sì esatto, oggi presentiamo Birra Raffo Lavorazione Grezza, la presentiamo in esclusiva oggi al Beer and Food Attraction, è disponibile da pochissimi giorni è una birra che vuole veramente incarnare tutto lo spirito della sua regione, la Puglia l'abbiamo chiamata Lavorazione Grezza perché ha cereali non raffinati di Puglia e soprattutto tutto il processo di produzione è volto proprio a mantenere il colore e gli aromi dei suoi ingredienti in maniera tale che al consumatore arrivi effettivamente un prodotto grezzo anche l'etichetta che abbiamo utilizzato, la texture dell'etichetta è così grezza, così che questo messaggio passi al consumatore un'etichetta che richiama il giallo dei campi di cereali in Puglia e ha inciso su questa bottiglia le onde del mare pugliese quindi abbiamo voluto racchiudere in questa bottiglietta di lavorazione grezza tutto lo spirito di questa fantastica regione A chi è destinata questa birra? Allora questa è una birra, lo vediamo sempre di più, i consumatori cercano delle birre premium di qualità quindi questa è una birra che risponde a queste esigenze dei consumatori è una birra che ha un gusto morbido, è una birra che ha queste note amare luppolate sul fondo è un po' velata perché è una birra non filtrata ma è anche una birra fresca quindi è anche facile da bere perché volevamo proprio portare una novità accessibile a tutti i consumatori Una delle caratteristiche che ho notato assaggiandola pochi minuti prima di iniziare la nostra intervista è la sua leggerizza, attenzione non ha una gradazione inferiore rispetto a tutte le altre lager perché è praticamente quasi 5 gradi ma è estremamente delicata, meno aggressiva diciamo Esatto, questo è proprio legato al processo di produzione perché abbiamo voluto sì fare una birra che avesse questi cereali di Puglia non raffinati e sono proprio questi che le danno questo gusto morbido e quindi questa percezione di essere più accessibile, più facile da bere pur essendo una lager non filtrata con una gradazione elevata E dunque viva birra raffo, lavorazione grezza Assolutamente, vi invitiamo ad assaggiarla Grazie